Musica Ok, dai cominciamo Grazie adesso, adesso mi incoraggia No, è una gea per me condividere soprattutto questo tema ci daremo tanto anche perché ultimamente lo Spirito Santo sta parlando prima a me di questo tema la chiamata di Dio e con tante sfaccettature che oggi cercheremo un po' di affrontare voglio iniziare condividendo di quello che ho vissuto qualche mese fa lo Spirito Santo mi parla molto durante la notte, il dormiveglia forse perché sono un attimo concentrata quindi lui riesce a parlare meglio probabilmente noi ascoltiamo meglio quando dormiamo sì, parliamo poco insomma, almeno spero e vedi una visione molto chiara vedi un bambino che rincorreva in un prato e rincorreva una farfalla vedi proprio questa scena, un bambino che correva in un prato e rincorreva una farfalla avete presente i bambini quando vogliono acchiappare le farfalle, no? e vedi proprio questa scena, vedi questo bambino che cercava di afferrare questa farfalla e questa visione finiva così, che la prendeva e la teneva stretta e mi sono svegliata e ho detto, Spirito Santo ma che cosa vuol dire? e lo Spirito Santo mi ha detto vedi voi siete un po' come questo bambino voi pensate che tutte le cose che io ho rinversato dentro di voi come chiamato, come doni, talenti, come tutto un po' tutto quello che si ha nel nostro carattere, i nostri sogni pensate sempre che non servino o che serve qualcosa e qualcosa invece da accantonare ma Dio mi diceva, non è così voi dovete iniziare a capire che ogni parte di voi ogni briciola del vostro carattere è stata creata da me è un obiettivo, non ci sono cose che vanno bene cose che non vanno bene tutto, se noi vogliamo, poi corrisponde al regno di Dio opera per il bene di Dio e Dio mi diceva, io non vi do mali per poi rinchiudervi in una gabbia io non sono così perché probabilmente io, penso forse un po' tutti ho sempre pensato negli anni che c'erano cose di me che andavano bene quindi cose che avrei potuto usare per il bene di Dio dei talenti, dei doni specifici altri invece no oppure che dei sogni erano per Dio altri invece erano miei sogni umani che ne so, vi faccio degli esempi anche se ne parleremo un po' meglio che ne so, l'abilità di cucinare non serve per il regno di Dio molti credono quando lo Spirito Santo invece mi ha detto non è bello anche la minima parte di te anche la cosa più piccola che tu sai fare è un dono che io ti ho dato e puoi utilizzarlo per benedire gli altri anche preparare un piatto di pasta se lo fai per Dio, se lo fai per gli altri dà quello che è Dio e Dio è di benedizione per gli altri quindi lo Spirito Santo mi ha insegnato un po' questo Dio dà dei doni a tutti quanti noi e noi dobbiamo imparare a aiutarli tutto, tutto ciò che fa parte di noi a volte abbiamo anche delle inclinazioni verso qualcosa piuttosto che un'altra questi sono tutti i doni e talenti che Dio ci ha dato noi siamo troppo limitati come Chiesa ci hanno insegnato troppe cose limitate cioè, che ne so, se sei nel ministero è per Dio se invece vai a lavorare non è per Dio, è una cosa umana quando in realtà non è assolutamente così perché Dio ha scelto ognuno in modo diverso Dio ha dato un ministero a ognuno che può essere quello che vedete apostolo, profeta, dottore ma ha dato anche altre persone che lavorano nel mondo secolare ma quello è il destino di Dio per la loro vita non dobbiamo catalogare tutto perché Dio non è così Dio ha destinato ognuno ma ha destinato anche che un uomo nascesse per diventare dottore avvocato, medico e nel suo posto di lavoro essere di esempio per il regno di Dio e espandere il regno di Dio dobbiamo imparare questo perché tutti ci focalizziamo su una cosa che se sei profeta lavori per il regno di Dio se invece lavori in panetteria quando non è così quando non è assolutamente così e così frustriamo le persone e cerchiamo tutti quanti di andare verso un obiettivo che alla fine se non è il tuo non ti porterà puoi essere anche il più grande evangelista del mondo ma se quello non era il destino di Dio per la tua vita tu ti sentirei sempre male sempre frustrato perché non è il ministero in sé capite? è il centrale della perfetta volontà di Dio per la tua vita quindi è perché sono nato e come si fa a parte a rispondere a queste domande? è semplice a ognuno di noi Dio ha dato dei sogni dentro delle inclinazioni lo vedremo ma intanto voglio aprire un po' così una parentesi puoi chiederti cosa arde nel mio cuore? spesso lo dicevo ai ragazzi come fai a capire qual è il destino di Dio per te? rispondi a questa domanda nel tuo cuore cosa arde nel tuo cuore? qual è la vita che desideri senza la quale tu non potresti vivere? allora per me è questo è molto di più non mi sarei mai immaginata un'altra vita se non questa ma perché è il destino di Dio per me ma è il mio e il mio il tuo e il tuo una persona mi potrebbe rispondere io desidero diventare un medico a me è un gloria di Dio che sia per la gloria di Dio vai e vedremo anche nella Bibbia quante persone hanno centrato la volontà di Dio magari per gli altri stanno sbagliando quando in realtà quello è il volere di Dio dobbiamo imparare a capire queste cose dobbiamo imparare a allargare la nostra mente perché il regno di Dio è ovunque deve essere ovunque il regno di Dio non è nelle quattro mura il regno di Dio è nella politica il regno di Dio è nella musica il regno di Dio è nell'arte il regno di Dio è fra gli avvocati il regno di Dio il regno di Dio è ovunque ovunque fra i meccanici ovunque qualsiasi posto voi immaginate lì c'è il regno di Dio io non posso arrivare che ne so posso arrivare a diventare ad avere influenza nel mondo di avvocati o nell'arte o nella musica perché non è la mia chiamata ma forse qualunque se qualcuno che può perché è la chiamata di Dio io non posso arrivare a avere influenza nella politica perché non è la mia chiamata ma c'è qualcuno che Dio ha creato ha fatto nascere con questo destino per avere influenza nella politica amè è un esempio ovviamente e se questa persona non c'entra nell'obiettivo tutti ne li sentiremo tutti è vero quindi l'importante è iniziare a capire questo cosa c'è nel mio cuore cosa arte perché se Dio ha messo un desiderio nel tuo cuore è facile devi solo rispondere a questa domanda qual è la vita che voglio fare senza la quale io io ne immaginerai un'altra allora al 99% quella è la tua strada quella è la strada che Dio vuole per te a me leggeremo dei passaggi leggeremo un po' oggi in esso 2 se non avete la bibbia ditelo che ve la procuriamo adesso devo dare il testo 11 dal versetto 11 ci dice in quei giorni Mosè già diventato adulto andò a trovare i suoi fratelli ci siete? ok 2 11 in quei giorni Mosè già diventato adulto andò a trovare i suoi fratelli notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che perpoteva uno degli ebrei i suoi fratelli egli forse lo sguardo di qua e di là e visto che non c'era nessuno uccise l'agiziano e lo nascose nella sabbia fermiamoci un attimo qua il scritto santo mi parlava su questo passaggio che forse è poco conosciuto pure perché tendiamo sempre almeno io non lo so un po' tutti penso di sì tendiamo un po' a conoscere le storie per quello che ci mostrano nel film quando in realtà i film sono spesso errati cioè la vita insegna che Mosè sapeva chi era sapeva di essere un ebreo non l'ha scoperto come nei film all'improvviso lo sapeva bene di essere un ebreo e qui c'è uno dei passaggi iniziali dove un po' apre un po' tutta la sua strada tutto il suo testino e qui vediamo un Mosè io vedo un Mosè liberatore vedo un Mosè che fra vede un ebreo un egiziano litigare una discussione ovviamente forte non stiamo parlando che litigano i due amici stiamo parlando padrone e schiavo no e dice che lui ha un attimo così di ovviamente quello che fa è sbagliato però sto prendendo ovviamente l'esempio e dice che si aizza contro l'egiziano e lo uccide ora noi tutti sappiamo che Mosè perché è conosciuto Mosè dopo di tutte le cose che ha fatto ma perché lui è stato il liberatore del popolo di Israele giusto ma qui è l'inizio dopo succede vi ricordate la storia del pruno che Dio parla a Mosè e gli dice tu sei il liberatore che io ho scelto e lì ci sembra un Mosè quasi che scende dal pelo no per dire io quando poi in realtà se noi torniamo alle origini qui in questa storia vedremo che il DNA di Dio il testino di Dio era già dentro di lui e qui già si vede come lui lo espone inconsciamente sicuramente ma lui è già il liberatore che Dio aveva preparato cioè che cosa voglio dire voglio dire che la chiamata di Dio non scende all'improvviso è già dentro di noi fin da piccoli quanti di noi abbiamo detto da piccoli io desidero viaggiare io desidero cantare io desidero suonare io desidero cucinare io desidero noi spesso sottovalutiamo queste cose quando in realtà è Dio che le incitano il cuore di ognuno e qui vediamo Mosè all'inizio era anche il giovane perché poi passano 40 anni passano tantissimi anni e vediamo all'inizio subito il suo istinto di liberatore vedete che quando poi Dio gli ha parlato Dio gli ha dato solo una conferma di ciò che lui già sapeva dentro di sé vi ripeto sicuramente era inconsciamente perché a volte noi facciamo delle cose e neanche ci rendiamo conto di quello che facciamo perché in realtà in quelle cose c'è già il destino di Dio eppure qua vediamo Mosè già liberatore già che cioè quello che ha fatto noi lo vediamo un po' sì vabbè cosa avrà fatto no lui ha perso la sua posizione per quello che ha fatto in questo momento perché quando poi leggiamo più avanti lui iniziava a capire che tutti conoscevano questa storia e sapeva che il faraone lui gli avrebbe fatto passare questo scavolo e quindi che fa scappa e inizia poi la sua vita inizia un po' il suo destino quindi lui per difendere il suo popolo gli ebrei il suo stesso sangue in realtà lui perde la sua posizione in quel momento che era molto più favorevole umanamente voglio dire era molto più favorevole essere un egiziano figlio della della principessa che essere piuttosto un ebreo uno schiavo no eppure quello che lui era era già dentro di noi quindi è importante capire questo è importante capire che il DNA di Dio è già dentro di noi non arriva né quando arrivi a Cristo e non arriva neanche all'improvviso fin da piccolo fin da piccolo tu hai un'inclinazione e sono quei sogni che Dio mette Dio Dio non fa distinzioni come purtroppo purtroppo le facciamo noi mondo chiesa chiesa mondo chiesa Dio non vede questo Dio vede figli vede figli ritrovati e figli sperduti quindi per questo quando lui crea i bambini perché Dio che li crea quando Dio porta alla luce un uomo una donna già lui vede un destino magari anche inconsapevolmente quanti uomini che non conoscono Dio come lo conosciamo noi hanno fatto però il volere di Dio tantissimi quando ero alla scuola domenicale perché per un po' sono stata alla scuola domenicale e la mia monitorrice mi ha detto una frate che mi è rimasta e mi ha detto ci insegnava e diceva ascoltate diceva ma secondo voi l'intelligenza i doni i talenti le inclinizioni chi li dà Dio li dà certo allora ci ha detto ed è un po' quello che vi voglio dire anche io ci ha detto allora tutte le persone che usano l'intelligenza che Dio gli ha dato per il male allora cosa mi rispondi gliel'ha data Dio o gliel'ha data Satana molti dicono gliel'ha data Satana è dell'errore più grande che potessimo mai fare perché non è così Satana non dà niente a nessuno Satana toglie Satana non è in grado di fare doni lui non li può fare Satana non può creare noi ingrandiamo Satana quando in realtà lui è solo un angelo Dio non ha contrari Satana non può fare quello che Dio può fare molti allora che bambini dice chi è il contrario di Dio Satana non è vero Dio non ha contrari il contrario di Satana è un angelo Gabriele Michele è un esempio possono essere il contrario di Satana perché Satana è un angelo decaduto quindi un angelo di luce è il suo contrario quindi Satana è potente quanto lo è Gabriele Michele tutti gli altri angeli anche arcangeli ovviamente poi c'è la schiera di angeli però per dire Dio non ha il contrario Satana non può creare Satana non può essere in tutti i posti contemporaneamente Satana è un angelo per fare quello che tutti gli angeli fanno per fare quello che tu gli dai da fare Satana non ha altra libertà se non quella che tu stesso gli dai questo è già è buono da iniziare a capire Satana non può dare intelligenza Satana apprende quello che Dio ha dato ai uomini e lo perverte cioè un bambino nasce con intelligenza avanzata no? e poi c'è una fase della sua vita dove dice ok che faccio la uso per creare pedicine o la uso per creare bombe atomiche lì c'è un bel combattimento ovviamente fa un bambino sto parlando che non conosce Dio come lo conosciamo noi che non conosce Gesù realmente ci sono bambini che persone delle scienze che sono influenzate da Satana e prendono un abbiamo la pace e creano le bombe atomiche ma in realtà quella sua intelligenza non era per questo Dio non gliela aveva data per questo gliela aveva data probabilmente per creare le medicine che avrebbero salvato persone persone e poi ci sono uomini che hanno fatto tanto del bene che fanno del bene come questi uomini come tutta la scienza che va avanti e che aiuta tutti quanti noi ma ditemi voi vedete Dio in questo Dio è in tutti Dio ha dato tutto a tutti Dio non ha dato qualcosa a qualcuno Dio ha dato tutto a tutti ovviamente noi che lo conosciamo abbiamo lo Spirito Santo che ci aiuta a capire come direzionare i nostri i nostri talenti per il bene ovviamente ma ci sono persone che sono così condizionate da Sala dal peccato perché non conoscono Gesù che usano quello che Dio stesso gli ha dato per il male voi pensate vi faccio un esempio assurdo però penso che mi state seguendo nel discorso pensate che il dono che Dio ha dato a un Hitler gliel'abbia dato Satana ma Dio gli ha dato quella quella leadership pensate un Hitler in buono che cosa avrebbe fatto quanta gente avrebbe coinvolto nel bene quando invece lui ha usato quello che Dio gli aveva dato nel male e ha portato con sé affascinato con sé milioni e milioni di persone le ha applaggiate così tanto che tutti iniziavano a pensare come lui con i suoi pensieri contorti che ovviamente provenivano da noi sappiamo chi ma quella capacità di quella leadership chi gliel'ha data se non che è Cristo siete d'accordo con noi? dobbiamo imparare a capire a volte noi frustriamo anche le persone che abbiamo attorno solo perché le persone ci dicono io non voglio diventare un missionario io voglio andare a lavorare e noi diciamo no tu devi fare la volontà di Dio ma qual è la volontà di Dio? la volontà di Dio è quella che Dio ha dato a lui personalmente se sia nel lavoro amen gloria a Dio e nel ministero amen gloria a Dio che ognuno faccia la sua parte se fossimo tutti nel ministero il mondo cadrebbe e se fossimo tutti nel mondo e nessuno porterebbe avanti il ministero in questo modo le cose non funzionerebbero comunque ognuno ha nel suo posto una cosa non è meno dell'altra un discepolo un apostolo non è inferiore di chi lavora a far meccanico ma lì ha influenza lì parla milioni di persone lì dobbiamo imparare queste cose dobbiamo imparare le prime a noi e poi rilasciarle nel modo giusto perché noi abbiamo preso questi ragazzi perché abbiamo creduto che loro fossero chiamati a un ministero ma sapete quanti ragazzi abbiamo avuto con noi che noi vedevamo e sentivamo dallo Spirito Santo che non le erano chiamate a questa vita ma che erano chiamate di tornare a casa a trovarsi un lavoro perché magari loro dicono io voglio vivere così voglio fare il dottore ok allora vai a casa e continua a rispondere il regno di Dio lì dove ti troverai non dobbiamo dobbiamo capire dobbiamo capire ognuno di noi qual è la volontà di Dio ognuno ha una volontà di Dio che è imperfetta ti ripeto puoi fare anche l'apostolo ma se quella non è la volontà di Dio per te non stare felice con lui e seppure dobbiamo capire dobbiamo smettere di frustrarci e frustrare perché non è così che funziona perché Dio ha scelto Mosè per essere liberatore non ha scelto Mosè per essere l'apostolo ma per liberare un popolo capite non è non è una cosa che è classica ok ti scelgo per diventare sacerdote no ha scelto per essere il liberatore e abbiamo visto che già fin dall'inizio questo istinto era dentro di lui fin da piccolo era dentro di lui qua era all'inizio era piccolo era giuro eppure era dentro di lui il DNA di un liberatore che DNA hai dentro quello che Dio ti ha dato devi scoprire e intraprendere quella strada non importa chi ti dirà sì chi ti dirà no l'importante è che tu sia felice che tu sia soddisfatto che tu incontri Gesù quando lo incontrerai faccia a faccia gli dirai io ho fatto la tua perfetta volontà l'ho centrata l'ho voluta centrare qualunque essa sia ma io mi auguro vi auguro che possiamo dire questo a Cristo un giorno bello io ho fatto la tua perfetta volontà non ho seguito quello non ho seguito la massa non ascoltare i consigli della gente io ho capito qual era la tua volontà e l'ho fatta come Mosè alla fine ha detto sì dopo che io non so parlare non sono capace alla fine ha detto sì perché perché era quello che desideravo Dio non ti chiamerà a fare qualcosa che in fondo in fondo tu non desideri sì avrai le tue paure perché tutti li hanno le paure avremo anche di questo ma alla fine è ciò che ha nel tuo cuore se tu mi togli questo se voi mi togliete questo per me non ha più niente senso potrei avere un lavoro da un milione di dollari potreste proporre la passia sì io vi direi sempre no perché sarei infelice sarei insoddisfatta perché non sono male per questo vuoi essere felice in questa vita vuoi essere soddisfatto vuoi centrare la perfetta volontà sapete che c'è una buona accettevole perfetta volontà io faccio questo sì è buono è accettevole ma non è perfetto per essere soddisfatti in questa vita dobbiamo centrare il centro dobbiamo mirare il bersaglio e il bersaglio è questo la perfetta volontà di Dio per la tua vita lo scopo per questo è noto che è sì conoscere Dio che è sì benedire gli altri ma è ancora più nello specifico dove come quando non è non è non è non è diamo a chi due passaggi in primo Samuele 17 37 34 primo Samuele 17 34 versetto 17 versetto 34 questa è la storia di Davide gli inizi anche qui di Davide il versetto 34 dice Davide rispose a Saul il suo servo pascolava il greggio di suo padre e talvolta veniva un leone o un osso a portare via una pecora dal greggio allora gli correvo dietro lo colpivo gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivoltava con uno lo afferravo dalle mascele lo ferivo e la ammazzavo chi vedete qui? la stessa cosa vedete Davide era già quello che era fin da piccolo che cosa ha fatto Davide? ha fatto di tutto per proteggere il suo popolo di Israele cosa ha fatto Davide? lasciate stare quello che era il ministero quello che mi pare a voi ma in realtà il suo vero DNA era questo proteggere il popolo di Israele è famoso per questo tutto quello che è se voi leggete la storia la conoscete e qua che cosa dice? dice io ho visto un orso ho visto un leone attaccare il mio regge e ho fatto di tutto per liberare le mie pecore dall'orso e dal leone cioè mi sembra una cosa normale che un ragazzino di 16 17 anni vede un orso e un leone un cagnolino una volta un orso e un leone e per dire il proprio grege e lui dice che spavardo com'era nel senso buono aggredisce lui il leone e l'orso tanto da ucciderli e qui dice il re sauro dice se l'ho fatto una volta posso farlo ancora sta dicendo se questo è il mio dna potrò farlo anche questa volta infatti dopo dice che cosa sarà mai questo filisteo che ci attacca che insulta proprio di Israele vedete come il destino di Dio era già insito dentro di lui il fatto di essere un protettore un re non è diventato un re solo perché Dio l'ha scelto tra questo Samuele era già re è arrivato solo l'attimo in cui quello che era ha preso forma questo è successo e quando Samuele ha avuto re Davide si rimani perché alla fine è tutto per fede alla fine i sogni che hai che ci credi ci credi sì ma sono così grandi a volte che tu dici quando ti arrivano e prendono forma davanti a te una parte di te rimane stere fatto perché dici ma allora non sono pazzo e quando Davide si è visto un genere re avrà pensato ecco sta prendendo vita quello che io mi fondo ciò saprevo di essere perché vedevo che queste erano le mie inclinazioni a essere lei a essere protettore a salvare pur di mettere all'avventario la mia stessa vita è importante anche per noi per voi soprattutto in questa fase della vostra vita avete figli avete persone accanto avete persone sotto intendo come figli e tutto chiedete allo Subito Santo qual è la sua volontà perché io voglio aiutarlo come mamma come papà come fratello maggiore come sorella maggiore a indirizzarlo verso quella che è la sua volontà di Dio per lui quali sono le sue inclinazioni cioè io mi si raddrizzano mi viene dalla testa quando penso delle mamme in Cristo che vedono i bambini che hanno voglia di ballare e dicono no perché perché no per non aggiungere quello che dicono siamo fuori di testa potentemente fuori di testa chi ha dato queste inclinazioni queste doti Satana ho letto di Dio il ballo il canto la musica il voler parlare il voler sono tutte cose che vengono dall'altro la vita insegna tutti i buoni doni vengono da Dio tutti e noi dovremmo imparare a incoraggiare le persone non a frenarle perché secondo noi quello è da Dio e quella cosa è diabolica e frustiamo i ragazzini che poi arrivano a 17-18 anni e dicono ma vai tu è tuo Dio ho 26 anni quindi mi ricordo questa fase perché noi non riusciamo a capire invece che ognuno di noi è un unico in particolare e anche il fatto che un bambino voglia cantare voglia ballare voglia stare con gli anghetti è positivo è tutto positivo perché Dio l'ha creato in quel modo e noi che abbiamo responsabilità che hanno responsabilità per i loro figli imparate a parlare con i loro figli signore fammi capire qual è la sua informazione qual è la sua volontà anche per le scuole che farà per il lavoro che sceglierà sia nel ministero sia nel lavoro perché io sarò con lui in questa scelta e vedrete che i vostri figli i vostri fratelli i vostri sorelle vivranno una vita piena e soddisfatta perché uno avrà una post-appoggio e avere appoggio di persone che ci sono accanto in tutto qui ci sono ragazzi che la maggior parte del loro combattimento è proprio perché non hanno nessuno accanto che gli dica ok vai se ne è la valuta di Dio inseguila magari hanno genitori che li opprimono quindi io non voglio essere una di quelle che invece di investire sui sogni degli altri li opprime solo perché secondo me non è quello il posto giusto perché io non sono nessuno e noi dobbiamo imparare che anche se siamo genitori o siamo amici o siamo fratelli non siamo nessuno in confronto a Dio noi non siamo nessuno Dio ha l'autorità suprema un altro passaggio in giudici cinque versetto unici ci siete voi io no ok questo no sei undici sei undici sei undici sei undici sì c'è un sì ok ok dice poi venne l'angelo del signore si sedette sotto il terrebinto di Ofra che apparteneva a Ioas a Bezzerita e Gedeone figlio di Ioas trebbiava il grano nello struttore che nasconde la Marianiti ci siete assieme unici lo ritenco cioè poi venne l'angelo del signore si sedette sotto il terrebinto di Ofra che apparteneva a Ioas a Bezzerita e Gedeone figlio di Ioas trebbiava il grano nello strettoio per nasconderla a Marianiti cosa fa qua Gedeone stessa cosa uguale uguale a quando abbiamo visto Davide quando abbiamo visto Mosè tutti vedono il dopo iniziamo a vedere le origini perché lì c'è la chiave non vediamo sempre le grandi cose perché tutte le grandi cose che ognuno di noi fa sono solo cose che Dio ci dà da fare cioè il ministero in sé o la grande chiamata o si apre il mare risolgo le morti queste non sono cose che gli uomini fanno queste sono cose che Dio fa attraverso gli uomini la Bibbia dice che ogni talento ogni ministero ogni chiamata di Dio è senza apprendimento è Dio che fa questo attraverso gli uomini impariamo a vedere gli uomini perché ci tiene un po' ci li fa vedere un po' più vicini a noi vedere sempre Mosè e Davide come i grandi condottieri è solo una parte di quello che è realmente vediamo i loro combattimenti vediamo quello che hanno vissuto vediamo chi sono realmente questi uomini perché altrimenti li vedremo sempre troppo lontani e qui vediamo un Gedeone che voi riconoscete la storia quando Dio chiama Gedeone e poi dopo gli padre qui vediamo che lui lavorava di notte perché perché i madianiti avevano il controllo di tutto mi ricordate un po' la storia i madianiti avevano il controllo di tutto erano schiavi gli ebrei erano schiavi Gedeone erano schiavi i madianiti avevano il controllo di tutto prendevano il loro cibo e lo mangiavano loro e loro rimanevano schiavi che cosa fa Gedeone dice che lavora di notte per sottrare il grano a madianiti finché i madianiti non lo vedessero perché da di notte non era di giorno quando Dio lo chiama dopo più avanti Dio gli dice tu sei forte vai con questa tua forza Dio gli dice ma quale forza è come se io vedessi Dio gli dice ma che cosa aspetta fermiamoci un attimo cosa stai facendo sto rubando di notte che poi non è rubare perché era su sto nascondendo il grano a madianiti di notte perché di giorno mi vengono se lo prendono ah e questo non è coraggio quello che poi Dio chiama a fare Gedeone è qualcosa che ci sta iniziando a fare a liberare perché non è sceso all'improvviso Dio ha scelto uno a caso ha scelto colui al quale già questa era la chiamata questo era il destino di Dio poi Lui ha liberato il popolo di Israele almeno ha iniziato a riaccendere quella fiamma nel popolo a dire possiamo essere liberi possiamo smetterla di essere schiati ce la possiamo fare Dio con noi e questa forza che Lui ha dato dopo è una forza che c'è già qui perché non è che tutti avevano questo caraggio di ribellarsi perché quello che fa qui è il ribellore perché per il momento non l'avevano visto ma se l'avessero visto avrebbero ucciso punto sarebbe fin da là allora io mi chiedo perché Gideone non ce la faceva trattenere questo questa ribellione perché non ce la faceva perché era il suo DNA perché Dio l'aveva creato così e infatti quando Dio lo chiama alla fine lui dice sì perché perché io già lo sto fallendo perché è già dentro di me me lo stai solo confermando Dio conferma quello che già tengo dentro non è all'improvviso mi sveglio la mattina oggi desidero cantare e faccio un ct e bene dico milioni di persone quando in realtà non ho mai pensato a queste cose non è così che funziona Dio conferma solo quello che tu già hai dentro che forse non hai il coraggio di intraprendere o neanche di dire neanche di pensare perché magari è troppo grande è troppo alto non hai neanche il coraggio di pensare o di dire a qualcuno che andrò che guarda che io sono un guascio e alla fine poi Dio ci parla Dio non ha fatto che confermarci Dio non ha fatto altro che confermare Mose che era liberatore a confermare a Davide che sarebbe divenuto il re a confermare a Gedeone che sarebbe stato anche lui liberatore avrebbe portato di nuovo il popolo di strada poi la fiamma è meno chiaro il discorso e non è facilissimo è livello avanzato per i ragazzi ci andiamo piano piano perché era giusto anche ieri partire dalle basi perciò siamo partiti dal primo crediamo che voi siate già siate già siamo fisiologicamente felici e quindi dicevete nel modo giusto e questo è il motivo per cui siamo qua queste sono cose ovviamente che Dio sta parlando prima a me perché Dio molte volte si sono del ministero sono quello che volevo ma a volte ci sono delle cose dentro di me dalle cose più banali dalle cose più grandi che a volte dico forse queste cose non mi serviranno e Dio mi ha detto ma perché pensi così perché pensi che che non mi faccio un esempio la tua abilità di preparare 20 piatti di pasta non è un'abilità che hanno tutti soprattutto io mi ti rimetto in cucina non esce nemmeno mezzo di pasta alcuni però dicono perché tu pensi che quella cosa io non la posso usare ti limiti perché ti limiti ci sono tantissime donne che io conosco che sono per me un esempio di ospitalità di anche una donna di Dio che dice io non credo io non faccio niente l'unica cosa che so fare cucinarvi a sbago quando venite qua prepara gli lezzi e lo fa con gioia quello che fa non è inferiore a quello che faccio io adesso perché io sono nata per questo e lei mi accanta e la soddisfa di preparare un piatto di pasta e un piatto di pasta e un piatto di pasta gloria a Dio se non ci fosse lei io dopo non mi rende fame se non mi è finita qua capite ogni cosa serve perché siamo un corpo perché invece dovrei dire no ma io ho predicato due ore che sarà un piatto di pasta gloria a Dio se ti soddisfa fare un piatto di pasta per tutti farlo un giola perché lì c'è Dio ognuno deve fare il suo qualsiasi cosa si può fare e la vita è piena di questo oggi non c'è nessuno siamo sempre noi tipo etima no la stava facendo qua qua abbiamo cucinato tutto pronto ero pensato subliminale però è solo brava ok grazie lui pioggia ditelo ditelo che stiamo mangiando bene è importante per noi capire questo non si tolgono niente di uno anche una sorella ha un fratello che dice continui a conosciuti che lo dicono eppure si come dire si sentono sempre inferiori tipo sorella io non so fare niente però so mettere la tenda gloria ti ho detto io che so mettere la tenda vieni cioè se è quello che sai fare se è quello che vuoi fare lo fai con gioia e ti senti soddisfatta nel fare qualcosa farlo tu predi io predico tu metti la tenda voi lo fai la pasta questo è il corpo divino in altri è scritto quando vi radunate è un esempio ma è un principio di quando vi radunate ma è un principio che vale nella vita non è che è solo quando si radunate è il principio che c'è in quelle frasi che dice chi ha una parola chi ha un incoraggiamento chi ha un salvo chi ha un canto chi ha una condivisione fate tutto per la voglia di Dio invece noi no quello che predica merita più onore di quello che invece ha messo la tenda vi assicuro che se Gesù avesse fatto così se Gesù avesse trattato gli altri sotto questo principio penso che nessuno di noi saremo qui perché quello che io faccio quello che io predico è qualcosa che Dio mi ha dato è un dono così come un dono è quello che mette la renda tutti abbiamo bisogno di tutti dobbiamo imparare a dare lo stesso onore a tutti non c'è uno superiore a un altro ma ognuno deve fare il suo nella volontà che Dio gli ha dato da fare in questa vita a me a me a me a me a me a me grazie Gesù grazie c'era una cosa che volevo dire però passo un po' avanti andiamo in ebrei 10-5 grazie a te grazie a te grazie a te 10-5 versetto 5 Mi posso benedire? Grazie, cos'è? Benedizione Si chiede? Stai dicendo che c'è qualcuno che puzza? No, ha capito il concetto Vedrà, profuma la condivide Migliora l'attenzione Ci siete? Dice Ecco, perché Cristo entrando nel mondo disse Tu non hai voluto né sacrificio né offerta Ma mi hai preparato un corpo Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato Allora ho detto Ecco, vengo nel rotolo del libro scritto di me Per fare Dio la tua volontà Avete mai pensato che se Cristo non avesse scelto di fare la volontà del Padre Che in realtà era anche la sua Noi non saremmo più Lui è il nostro esempio massimo Io ho preso Davide, ho preso Ma senza Gesù che ci lascia il suo esempio perché è il massimo Non riusciamo a capire bene le cose Gesù dice la Bibbia che lui ha accettato la volontà del Padre Non l'ha subita Come ok, sai un bambino dice alla mamma Mi prendi l'acqua? Ok, vado Cristo ha scelto Cristo ha scelto di prendere con sé Di fare sua la volontà del Padre Che in realtà era un mistero della verità Però dice che Gesù qui dice Io vengo, io vado sulla terra per fare la tua volontà E la volontà di Dio Per quella che noi sappiamo Per quella che anche abbiamo realizzato nella nostra vita Non è stata sempre semplice Gesù ha accettato la volontà Ha intrapreso quel cammino Qual è la volontà di Dio? Era la croce Perché era la croce? Non perché Dio era masochista e voleva vedere Perché attraverso la croce c'eravamo noi Solo il sangue di Gesù ci ha portato qui Era l'unico mezzo per salvarci Nessun altro potrebbe offrirsi sulla croce Se non che Gesù Perché è l'unico sangue puro E l'unico che non aveva mai peccato Lui è il figlio di Dio Era l'unico che poteva liberarci da una condizione in cui eravamo caduti E in cui anche un po' il mondo è Deve solo riscoprire Che quel sangue è stato già versato Ma Cristo era l'unico Che poteva riportarci a casa Perché l'ha fatto? Noi facciamo tantissimi studi proprio sull'amore di Gesù Se noi riusciamo a capire l'amore di Gesù Se noi riusciamo a capire che Gesù l'ha fatto Perché? Per ritrovare a casa i suoi fratelli E sue sorelle disperse Gesù non è stato un egoista Che aveva tutta l'eredità del padre E non ha pensato Ok ho tutta l'eredità del padre E me la tengo per me Perché avrebbe potuto farlo Certo che avrebbe potuto farlo Nessuno l'ha costretto alla croce Ma la Bibbia insegna Che proprio perché lui ci ha amati Così tanto Ci ha reputati i suoi fratelli E le sue sorelle Perché lo siamo Lui ha dato la sua vita Per riportarci a casa Perché immaginate Gesù Che ritorna a casa Dice io voglio vedere i miei fratelli E i miei sorelle Lì seduti a tavola con me Non voglio tutto questo bene Tutto questa colore È solo per me Io la voglio condividere con loro Anche se loro l'hanno rigettata Io voglio dargli l'opportunità Di ritrovarlo Questo è il Vangelo Perché sempre non so di cosa stiamo parlando Questo è il punto del Vangelo Questo è Cristo Che ha lasciato la sua gloria Per dare a noi la nostra gloria E lui è il fratello maggiore Per eccellenza Infatti la Bibbia dice Che noi siamo eredi di Dio Ecco eredi di Cristo Negli occhi di Dio Noi non siamo il figlio di Cristo Come figli Come figlianza Noi siamo pari al Cristo Ma è per mezzo di Cristo Che noi abbiamo ritenuto Di un bel passo che avevamo perso Perché se Gesù avesse detto Pensate a un altro Dio Che non è il nostro Ma pensate Perché c'era questa opzione Che Gesù avesse detto Io non voglio Io non voglio morire per loro Io non voglio dare la mia vita per loro Non voglio che tornino qui Perché loro hanno scelto Di andarsene Pensate a un po' Il fratello maggiore del figlio Il proprio Lui ha scelto di andarsene Quella è la nostra condizione Ma abbiamo scelto di allontanarci da Dio Ma gloria a Dio che Gesù non è così Gesù non è un egoista Gesù ha detto Io non ce la faccio a vivere Senza i miei fratelli Io non posso pensare Che loro siano insoddisfatti Perduti Tristi Felici Separati Da me E quindi Qual è la soluzione? Non dare Gesù ci ha messo la faccia Gesù ci ha messo il corpo Gesù ci ha messo il cuore Gesù ci ha messo tutto Dobbiamo smetterla di vedere Gesù che ha dato la sua vita In senso come corpo Perché Gesù non ha dato solo il suo corpo Ha dato il suo cuore La sua anima Ha messo in gioco tutto Per noi Tutto Gesù dice che ha preso la forma di un uomo Ma ancora di più di servo Non è venuto a servirci Gesù ha sofferto per noi Ha pianto per noi Ma perché? Perché l'ha fatto? Perché nei tuoi momenti bui Gesù non è un Gesù che dice Ok io la conosco questa sofferenza La conosco questa tristezza Perché sono Dio No Se tu vedi Dio così Ti sentirai sempre lontano ogni luce da Lui Ve lo dico perché è nessuno Iniziamo a vedere un Gesù Che è la realtà Che ti dice Io so cosa stai provando Io lo so cos'è questo dolore Io lo so Perché? Perché io l'ho vissuto Che differenza c'è fra Io subisco un dolore forte Mi arriva una sorella che mi dice Dai tranquilla passerà Ma io nel mio cuore so che quella sorella Non ha mai vissuto quello che subito adesso Io dico grazie per l'incoraggiamento Ma nel mio cuore dico Non sa cosa vuol dire Perché tutti pensiamo così Se poi arriva un fratello che mi dice Che ha passato la mia stessa sofferenza E mi dice Ce la farai Per me è diverso Perché so che se c'è riuscito Lui Ci posso riuscire io Questo è Gesù Gesù ha provato tutti i dolori Senza mai cadere nel peccato Dice la Bibbia Ma ha avuto le tentazioni Ha avuto la provata Perciò Lui è l'unico che può consolarti È l'unico che può dirti Vai ce la puoi fare Perché se ce l'ho fatta io come uomo Non come Dio Come uomo Sottoposto sicuramente A milioni e milioni di tentazioni Superiore della nostra Perché la mia vita ha un'influenza Che può essere su centinaia Su mille Su milioni Ma la vita di Gesù Aveva un'influenza mondiale E non solo di una generazione Ma delle generazioni passate Presente e future Pensate che combattimento Gli abbia fatto Satana Non lo voglio neanche immaginare E noi a volte per due bricele Già vogliamo mollare tutto Quando in realtà Il combattimento che ha avuto Gesù È indescrivibile È indescrivibile Eppure dice che Gesù Ha voluto Ha scelto di diventare un uomo Perché? Perché potesse diventare Dice il nostro mediatore Il nostro mansolatore Colui che può dirti Io ti capisco Cioè Vi immaginate un Gesù Che ha sofferto Che ha subito Tradimento Ingiure Maldicenze Abbandono Tutto ha subito Gesù E l'ha fatto solo Col presupposto Di poterti dire Io sono con te Io l'ho vissuto Io lo capisco Parla con me Io posso aiutarti Col chiuso cosa vuol dire La solitudine L'abbandono La paura Pensate che Gesù Non ha avuto paura Come uomo Sì che l'ha avuta Comunque più di Le nostre paure La Bibbia è chiara Ma Gesù è Gesù è Giusemani Non vuoi neanche osare Immaginare la paura Abbiamo avuto Eppure la Bibbia Che ci fa di scrivere Vediamo un Gesù Uomo Che nella sua paura Umana Quasi vuole Dire Non ce la faccio Non ce la faccio Sono venuta al mondo Per questo Per fare la tua volontà Per la cruce Ma in questo momento Io non ci riesco Perché ho paura Ma poi dice Padre si è fatta La tua volontà Perché noi avremo paura Sempre Tutta la vita Avremo paura La differenza qual è Lasciarci dominare Della paura Ma non permettere Alla paura Di dominarci Gesù ha avuto paura Come uomo Ma non ha permesso Alla paura Di dominarla E quindi è stato Un attimo Dove ha detto Io ho paura Ma poi subito ha detto Ma io mi permette Alla paura Di osservare Nel cammino Per il quale Sono venuto E quindi Padre io faccio La tua volontà E fino alla croce Lui ha detto sì 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 L'esempio massimo Di fedeltà Gesù Sì 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 Quindi se tu pensi Che la sua volontà Sia un po' troppo Grande Parla con lui Perché lui è l'unico Che può dirti che La volontà sua Alla fine È quella che ti dà più Giù Perché è così Perché in quel momento In quel momento Gesù ha sofferto Ma poi la vita dice La gloria che mi ha ricevuto dopo La gioia che mi ha ricevuto dopo Non era assolutamente paragonabile Alla sofferenza di quel momento E quando parla ad esempio in Giovanni Quando una donna partrisce proprio il dolore Ma poi il dolore scompare Perché per la gioia che è venuta al mondo Un bambino Il suo bambino Questo è Gesù Ha sofferto in quel momento Ma vedeva già la gioia Che gli era posto davanti Saliva 53 Gesù soffriva Ma vedeva la gioia davanti E per quella gioia Lui ha detto sì Ha tenuto i denti stretti Per quella gioia Se tu non vedi la gioia Se tu non vedi il frutto Se tu non vedi dove stai andando Non riuscirai ad andarci Non riuscirai a stare fermo Nelle tue prove Perché? Perché lo stai facendo? Non c'era una risposta Che senso ha? Non riuscirai a fare niente Nella vita Se non hai degli obiettivi Ok io soffro oggi Perché? Perché devo arrivare lì Quindi anche in questo momento Io combatterò A volte dico Ragazzi Ragazzi Non è importante Come arrivare Ci sono dei momenti In cui corriamo Dei momenti In cui camminiamo Ma ci saranno dei momenti Dove ci strascinicheremo Strascinicheremo Strascineremo Strascineremo A volte A volte Zoppicando Ma è importante Che andiamo in la meta L'importante Che raggiungiamo I nostri obiettivi L'importante Che raggiungiamo I sogni di Dio Non importa come A volte Ha rilento Ma l'importante Che stiamo andando là Non ci fermiamo A volte Corriamo A volte Siamo spediti A volte Siamo un po' più Arregliato Come Gesù In quel momento Non è stato molto spedito In quell'attimo Ci è andato quasi Zoppicando Ma ci è andato Conta il traguardo Non conta come Paolo dice Io ho corso Io ho finito La mia corsa Ho osservato la fede Adesso mi aspetta La crema della gloria Tu dici Vedi Paolo Di dire Questo prato Dici Ha corso Ma in realtà Sappiamo che Non ha sempre corso Perché la sua vita Non è stata facile Perseguitato Ricettato Degli stessi fratelli Tu dici Non sai dire Che è corso Perché è fede Perché tu sai Che sei arrivato Al traguardo A volte Con le lacrime A volte A denti stretti Ma la fin Ce l'ha fatta Gesù ce l'ha fatta E noi siamo qui Per quello Che Gesù Ha fatto E se lui Ce l'ha fatta Fare la volontà Di Dio Chi non era Una di quelle Più semplici Nel mondo Voglio dire Ce la possiamo fare Al pieno Ma è incessione Come è Leggiamo l'ultimo passaggio Dai Genesi 49 10 Capitolo 49 Versetto 10 Guarda che c'è scritto Guarda che c'è scritto Qua Versetto 10 Dice Lo scelto Ve lo ricorda che c'è scritto Ve lo ricorda di questo passaggio È Giacobbe Sì Giacobbe quando lascia le benedizioni Tutti i figli No? Qua arriva Al versetto 10 Arriva su Giuda Figlio su Giuda Dice Lo scelto Non sarà rimosso da Giuda Né sarà aglantonato il bastone del comando dai suoi piedi Finché venga colui al quale esso appartiene A cui ubbidiranno i popoli Egli lega il suo asinello alla vite E il puledro della sua asina alla vite migliore Lava le sue vesti col vino E il suo mantello Con il sangue del lupato Qua Sta facendo una profezia Sul suo figlio Che si sarebbe avvirata dopo Milioni e milioni di anni Di chi sta parlando qua? Di Gesù Perché Gesù appartiene alla ribu di Giuda Quindi Sua madre Dà la sua benedizione al suo figlio Giuda Ma non sta parlando qua di Giuda Sta parlando di Gesù Dice Da te Dalla tua discendenza Figli, figli, figli Figli, tanti figli Arriverà Dice Colui Che ha il bastone del comando E lo scettro non sarà rimosso La volontà di Dio Era scritta Milioni e milioni di anni prima Che Gesù avrebbe avuto il comando Lo scettro del comando non sarà rimosso La regalità e il regno Abbarterà chi ti verrà dopo Gesù E la tributi di Giuda Era colui del quale A provarlo non le scritture Vedete come Noi a volte pensiamo Che il nostro contributo In questa vita Sia Quasi inutile Ma non è così Dio ha scritto di te Prima ancora che tu venisse il mondo Ha scritto tutto Ma non ha scritto solo le grandi cose Che farà Perché vi ripeto Noi pensiamo che Ci siano grandi cose Cose piccole Quando in realtà non è così Pensate che Dare una carezza a una persona E dire vai avanti Sia una cosa piccola In realtà non lo è Magari quella persona Ha bisogno di quella parola Per prendere decisioni radicali Nella sua vita Ha bisogno di quel tuo incoraggiamento Dici sì ma nella vita Non ho mai fatto grandi cose O no così Pensi molto limitato Non sai quante persone È benedetto Quante persone è incoraggiato A volte con un sorriso A volte con uno sguardo A volte con uno silenzio E Dio aveva scritto quel giorno Dio aveva deciso Quell'attimo nella tua vita Devo concludere solo Con questa storia Che mi piace tanto Spesso noi pensiamo a Paolo Di grande Paolo In realtà lo è stato Perché sicuramente Quello che ha affrontato Voglio dire A volte noi Vogliamo lasciare Per così poco Quando in realtà Se solo vedremo un po' Di grandi uomini Quello che Quello che hanno vissuto Pur di Dobbiamo paragonarci Però a volte Questo ci aiuta a capire Che a volte Lasciare la chiamata di Dio Solo perché Non abbiamo Per esempio Parlo di noi Che siamo chiamati In questa vita Perché è più facile Fare questo esempio Lasciare Questa chiamata Solo perché Non ho i riscaldamenti Mi sembra una cosa Davvero misera In confronto a Quindi questo mi tiene Un po' Equilibrata Insomma Perché a volte Noi ci lamentiamo Per cose davvero Inutili Per cose davvero Di poco conto In confronto a In confronto anche Alle grandi cose Che ci aspeggiano Mollare per così poco Mi sembra proprio Un'offesa Quasi Questo è il mio punto Di vista Se vediamo Mosè Che in Ebrea 11 Scritto Lasciò I piaceri Dell'Egitto Perché vide L'invisibile Vide la gloria Ma intanto Lasciò I piaceri Dell'Egitto Per raggiungere Poi la volontà Di Dio Quindi Questo aiuta a me Una cosa A mio personale Pensare un po' A questi grandi uomini Sotto quest'ottica Perché dico Se loro ce l'hanno fatta Quando erano suoni Quando manco i fratelli Lo vorremmo A Paolo Niente che i fratelli Ci sono periodi della sua vita Che non aveva appoggiato Niente che i suoi fratelli No Perseguitato Dalla chiesa Eppure è andato avanti Spedito Vi ripeto Spedito vuol dire Con le lacrime Ma è andato avanti Dico A volte noi Per così poco Vogliamo subito Mollare Quando in realtà Non dovrebbe essere così Però siamo umani L'importante è Progredire Nella vita Oggi Sono agli inizi Magari voglio lasciare Perché non ho i termosifoni Poi un giorno Voglio lasciare Perché Perché Per una causa Più grande L'importante È progredire L'importante È restare fermo Se tutta la vita Voglio lasciare Solo perché Non ho i termosifoni È un problema Perché vuol dire Che non sono cresciuta Oggi voglio lasciare Per questo Domani Non ho i termosifoni Ma l'importante Che ti sta aspettando Che ti sta aspettando Imponigli le mani Vi ricordate La storia Unica Dice Lui è cieco Imponigli le mani Fagli recuperare La vista Annuncia Chi sono io Ancora di più Anche se Cristo Gli era già Farsi E io Spesso Mi se ne è chiesta E se Anania Avesse detto No Che cosa sarebbe Suggesso a Paolo Vedete Noi Vediamo Paolo Ma non vediamo Anania Magari la volontà Di Dio Per Anania Era che lui Arrivasse a Paolo Punto E che Paolo Arrivasse a milioni E milioni E milioni Di persone Noi vediamo Il grande Paolo Ma non vediamo Il grande Anania E quello è un problema Perché Dio Mi ha dato Un'influenza A me Magari Dio Mi ha dato Che su questa vita Io abbia Il mio 60% Un esempio Ma io devo Centrare Il mio 60% Né di me Né di più È quello Il punto Che Dio Mi ha dato Da svolgere Il mio 60% Ma magari È il tuo 30% E tu devi Adempiere Il tuo 30% Su questa vita Non devi Aspirare Il mio 60% Perché sarai frustrato Perché non ci arriverà mai Perché se Dio Ti ha dato Tanto Tanto Devi assolvere E magari Dio A Dara Mi aveva dato Solo un compito Facendo un esempio Ovviamente Magari Non è così Però In questo momento È stato così Magari Dio Aveva fatto Nascere Anania Per Benedito Per farsi conoscere A lui Ma perché aveva Un compito Per lui Paolo Devi andare Da Paolo Poi Anania È andata Da Paolo E quante persone Non ha raggiunto Non è raggiunto Paolo Solo perché Anania È andato Prima da lui E noi vediamo Il grande Paolo Ma non vediamo Il grande Anania Perché pensiamo Che quello Sia superiore All'altro Quando in realtà Si Anania Non avesse fatto Il suo Paolo Non sarebbe In quel modo Sia È andato Non dobbiamo Frustrarci Io ho La mia percentuale Dice che Dio Ha dato agli uomini Come gli pareva Punto Non c'è da chiedersi Perché tu ne ha di più Perché io ne ho di meno No Dio ha scelto così Se ognuno di noi Abbia la sua percentuale Chiediti Qual è la mia percentuale Cosa devo fare io In questa vita E falla Falla Ciò che Dio ti ha chiesto Non cercare di fare Quello che gli altri piace O vuoi fare Voglio diventare Quello Ma in realtà Non sei tu Non è il tuo destino Perché sarai frustrato E infelice Tutta la vita Cerca il tuo destino Cerca il tuo destino E compi il tuo destino Perché quello Sarà Il tuo cento per cento Non importa Se i grandi maggioristi Arrivano via Di persone E tu ne arrivi a uno Non importa la quantità Importa la qualità Magari Anania Non ha soccato Quantità Di persone Ma Una persona Di una grande qualità Paolo Che lui poi Ha fatto quello che Anania Non lo può fare Toccare in dire Di persone Questo è il corpo Siamo legati Uno a altro Se io salto Quello che mi È il mio compito Ma intiuto tutto Perché è importante Che io faccia il mio Che tu faccia il tuo Quindi io e me Faccia il proprio Amen Spero di essere stata Più C'erano tante cose Che volevo dire Però Sento che era giusto Dire questo Io prego Realmente che Queste siano cose Che scendono Il cuore Perché sono un po' Stanca di vedere Giovani Persone frustrate Solo perché Non sono diventate Chissà chi Rifiutano un po' Quello che sono Solo perché Lavorano in pizzeria Più 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 Perché Gli è stato Insegnato Che Una cosa Era migliore Dell'altra Che una Era il vorere Di Dio L'acqua Era L'umanità Quindi Voglio che Tutti noi Realizziamo questo Che di conseguenza Rilasciamo questo Prima le persone Più vicine E man mano Sempre di più A larga scala Perché È importante È importante Cognuno Arrivare Perché Ci sono medici Che Sono unti da Dio E sono chiamati Di Dio E fanno cose Che neanche immaginiamo Ci sono avvocati Ci sono politici Ci sono uomini D'arte Ci sono uomini Nella musica Che hanno un'influenza E possono arrivare A persone Che noi Non potremmo mai Arrivare E hanno capito Che Non sono apostoli Non sono profeti Non sono pastori Ma sono quello Che Dio Ha chiesto di essere E fanno quello Che un gioia Il regno di Dio Si espande Così si deve espandere Il regno di Dio Comunque In ogni ambito Perché ogni ambito È tattivo Perché in ogni ambito Ci sono persone Che Dio vuole raggiungere In ogni ambito Ci sono persone Che Dio vuole raggiungere Amen Amen Grazie a tutti Grazie a tutti